La presenza preliminare per l'intera famiglia Orlandi, oggi davanti al GUP Paolo Bargero del Tribunale di Alessandria. Il figlio Luca è accusato dell'omicidio volontario e distruzione di cadavere di Norma Mengardi, l'insegnante di sale che il 20 giugno scorso fu trovata morta all'interno della sua auto bruciata in un bosco vicino ad Isola Sant'Antonio. I genitori di Luca, la madre Ivana, Ferrara ed il padre Pietro Orlandi dovranno insieme al figlio rispondere anche di calugna nei confronti dei carabinieri. Tutto inizia il 20 giugno dello scorso anno, quando i vigili del fuoco intervengono in un bosco vicino ad Isola Sant'Antonio. I residenti della zona segnalano un incendio ed il fumo che sale alto nel cielo. È un periodo di molto caldo, spesso i pompieri intervengono per le sterpaglie che bruciano, ma quando i vigili del fuoco di Alessandria e Tortona arrivano sul posto ed iniziano a lavorare, capiscono di trovarsi di fronte ad un'auto che sta bruciando. Alla fine, a fiamme spente, sul sedele posteriore, quelli che sembrano i resti di un corpo. Iniziano le indagini serrate dei carabinieri. Il giorno prima la famiglia Mengardi di Sale, molto conosciuta, aveva denunciato la scomparsa di Norma. Sarebbe uscita per andare a fare qualche commissione, ma non è più tornata. L'auto bruciata nel bosco ad Isola Sant'Antonio è quella della professoressa di Sale. Fatte le analisi del DNA sui resti trovati nell'auto, la risposta è chiara. Su quell'automobile c'era il corpo di Norma Mengardi. Dopo pochi giorni sarà lo stesso Luca Orlandi ad andare in caserma dai carabinieri ad Alessandria a raccontare che cosa era avvenuto. Norma e Luca si erano incontrati in una strada che costeggiava uno dei terreni della famiglia Mengardi. Da qualche tempo c'erano degli screzzi, sembra per un affitto di un terreno non pagato. Quel giorno Norma Mengardi avrebbe ricordato a Luca Orlandi quel debito. Il ragazzo a quel punto l'avrebbe investita, avrebbe caricato il corpo sull'auto e l'avrebbe portato in una zona disabitata. Lì avrebbe cosparso l'auto con 25 litri di benzina e le avrebbe dato fuoco. Se in un primo tempo sembravano coinvolti anche i genitori, la loro posizione è stata presto archiviata, rimane la denuncia per calugna in quanto avrebbero detto che i carabinieri avrebbero forzato la confessione del figlio che invece a novembre dello scorso anno avrebbe voluto ritrattare.